La Puglia, con ben 60 milioni di alberi di olivo e il 40% della produzione nazionale, è senz'altro la più importante regione olivicola italiana, vantando una lunga tradizione fatta di frantoi, masserie, aziende agricole ed un olio extravergine, protagonista dell'agricoltura pugliese e alimento cardine della dieta mediterranea, proclamata dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Ed allora, ecco ritornare puntuale, come ogni anno a dicembre, questa vera e propria festa del loro giallo. L'oro, minuto per minuto, istruttivo e persino divertente, soprattutto per i bambini, vedere con i propri occhi ogni fase della lavorazione. È stato possibile anche a Trani, nell'ambito della manifestazione Frantoi Aperti, evento promosso dalla strada dell'olio Castel del Monte. Anche quest'anno, in decine di frantoi del territorio, si è svolta questa bella festa dell'olio Novello, una occasione di promozione e aggregazione attorno al prodotto principe della nostra terra. A Trani, in particolare, la manifestazione ha avuto luogo presso il frantoio Oro di Trani. E qui è stato possibile eseguire ogni passaggio della produzione dell'oro verde, defogliatrice e deramificatrice, lavatrice, frangitore, gramole, omogenizzatore, estrattore centrifugo, separatore centrifugo, stoccatore dell'olio verso i serbatoi. Questa catena è in grado di trattare 10 quintali di olive l'ora, producendo olio naturale o biologico. Viene venduto presso la stessa azienda, in molti punti vendita a Trani ed intorni, particolarmente su internet. È elevato il volume delle esportazioni, soprattutto con riferimento a Germania, Svizzera e Francia. A completamento e le visite guidate, non sono mancate le degustazioni, direttamente dal serbatoio o, più comodamente, sulla tavola appositamente allestita e arricchita da altri prodotti tipici locali. Quella andata in scena quest'anno è esattamente la decima edizione di Frantoio Aperti, una bella conferma della validità di un evento che mette in risalto l'eccellenza qualitativa dell'extravergine pugliese e la passione e professionalità allo stesso tempo di frantoiani che dedicano un giorno di lavoro soltanto a questa manifestazione, accogliendo numerosi visitatori che assistono alle fasi di produzione di un alimento che non deve mai mancare sulle tavole degli italiani. L'obiettivo resta quello di valorizzare e difendere l'extravergine pugliese attraverso iniziative di sensibilizzazione e promozione di imprese che lavorano bene e che con il proprio lavoro innalzano giorno dopo giorno l'immagine dell'olio pugliese e di Trani nel mondo.